Come va? Bene, non ho fatto niente perché ho tenuto in continuazione il freddo che ti dico e io non mi sono mossa e non mi prego niente. Hai fatto bene, però domani ti tocca, domani ti tocca eh? Domani che c'è? Che non lo so, quanti anni sono? E allora? Domani ti tocca, un anno di più. Mi tocca, mi tocca, ma chi se n'è? Andrei, chi gli fa? Eh io era per anticiparti la festa della gira madre. Ma lo so che tu lo sapevi, me l'avessi detto. Perché devo diffondere il verbo per tutto il regno, capito? Per tutti? Devo diffondere il verbo su tutto il regno che domani la gira madre fai l'anno. Per capire che importanza c'ho io, no? Senti, domani che cosa mangerai? Io? Per festeggiare. Se te lo dico devi pure non darire, ma quasi. C'ho un fastidio alle moroide da morire. Ah, ho capito. E beh, fatti un bel piatto piccante di qualche cosa. Eh, lo farete sì. Io una cosa l'ho mangiata, ma non è ieri nell'altro ieri. Eh. Una, certe salcicce fra caldarola, io da mo che non mangi le salcicce, qualche anno. Eh. Fate con, ma buone, guarda, anche magre, non è il grasso. Perché a me addirittura mi si sono seccate, lo ribollite nell'acqua per levare tutto, ma buone. C'è mette anche il finocchio dentro, gli dà un gusto fantastico. Il gusto omosessuale. E quindi domani è il giorno del comprarne tuo, minestrina, niente. Oggi io mi sono mangiata, ma vabbè, qualche cosa mi farò, no? C'ho le fettuccine, ho i cappelletti di Natale, vai la roba. Il torrono, gli asperi. Pure, pure i torroncini, ce l'ho, ce l'ho. Ascolta, c'è una tavoletta di cioccolata che sarà da mo, 4-5 mesi, pure che più, ancora stai lì, ma non sorti, ma non sorti, votare.